Torino. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato della Questura di Torino ha proceduto allo sgombero e al sequestro preventivo dell'ex lavatoio municipale occupato dalla locale compagine. Insurrezionalista anarchica il 9 dicembre 2022. Nella circostanza, all'interno dell'immobile, la Digos ha sequestrato 5 batterie di fuochi artificiali, una da 100 colpi, una da 49, una da 36 e due da 25. Diversi fumogeni, petardi, torce, maschere antigas, bastoni in legno, una fionda, liquido infiammabile e una struttura formata da 6 scudi in plexiglass, nonché numero 4 radio ricetrasmittenti. Grazie a tutti.